Cosa che cazzo che è qua sotto? Fratelli e sorelle Porta via! Io, cronato can E per finire il ciclismo, tre sole gare domani sulle strade della nostra provincia gli allievi correranno a Mancalacqua di Lugagnano, gli esordienti saranno di scena a Vigasio e i giovanissimi invece saranno impegnati a Povegliano E con questo Ad molti anni Grazie Porco Dio